bella a tutti fourniters, benvenuti su leontube, ecco qui per andare a vedere la missione, l'incarico, prendo il progetto del minerale cinetico raffinato da dedolo desolato ecco la strada da fare, allora qui andiamo a destra, iniziamo a seguire queste frecce qua quindi andiamo qua, andiamo a sinistra e qua andiamo ancora a destra qui seguiamo il muro, qui andiamo a destra eccoci qua ancora a destra no qui, dobbiamo andare di qua a sinistra ora intanto è arrivata la tempesta eccoci qui, qui giriamo a sinistra qui continuiamo a seguire, eccoci qui alla sinistra e siamo arrivati quindi raccogliamo il nostro bel materiale cinetico raffinato e ce ne scappiamo usando questa porta qua e l'incarico è completato, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti, ciao a tutti! ciao a tutti! ciao!